Buongiorno a tutti, sono il dottor Grilli Emanuele, psicologo e psicoterapeuta. Con la Uniostia quest'anno riparterò con i miei corsi sulla felicità, un corso sulla felicità che ho fatto per tanti anni. In che cosa consiste questo corso sulla felicità? Non è certamente un corso dove darò delle istruzioni per come diventare felici, anche perché so per esperienza che le istruzioni per diventare felici o per rimanere felici sono esattamente dentro di noi. In realtà il corso è articolato in questo modo, dedicherò delle lezioni poche all'aspetto teorico, cioè tutto quello che alcuni e altri filosofi, psicologi, poeti hanno detto e affermato sulla felicità anche per dare un po' un'infarinatura generale su questo concetto che è molto ampio, mi rendo conto. E poi soprattutto sarà composto il corso da lezioni che saranno più che altro interattive, cioè sarà il vostro contributo molto importante affinché ci sia un reale riscontro su che cos'è per noi la felicità e come possiamo mantenerla e renderla sempre più solida all'interno della nostra vita. Ci saranno stimoli, esperienze, giochi di ruolo, il tutto ci tengo a sottolinearlo con assoluto rispetto e ironia, perché l'ironia ci salva all'interno della nostra cornice emotiva. Parleremo della resilienza, parleremo del concetto di serenità in relazione alla felicità, parleremo di un sacco di cose e spero anche che, soprattutto, che questo corso sia per voi di enorme interesse e che stimoli ulteriori riflessioni, specialmente in questo momento dove stiamo uscendo da anni di grande sofferenza emotiva. Vi saluto e spero di vedervi presto. Arrivederci.